e con questa musica tristissima siamo quasi a fine gioco siamo riusciti a trovare il professor umino che è ricoverato in questo istituto in questa specie di istituto per anziani e ci ha detto che purtroppo abbiamo mancato aia per poco aia o meglio quella che fingeva di essere aia per poco perché è partita per andare a lavorare come medico una specie di medico senza frontiere insomma andare ad aiutare gli altri in africa come medico vediamo se possiamo chiedergli altro chi ha ucciso shiori secondo me con I killed someone lei intendeva che avrebbe ucciso aia cioè se stessa in quanto aia quindi la finta aia in questo senso non ha ucciso nessuno in realtà allora nella sua lettera mi ha detto di aver ucciso qualcuno lei per caso ha idea di che cosa volesse dire probabilmente riguarda l'incendio l'incendio è stato causato da un cortocircuito e lei praticamente incolpava se stessa perché sapeva che avevamo dei problemi con i cavi capisco shiori ha sempre voluto incontrarti sai avrei voluto incontrarla anche io se solo fosse arrivato con un giorno di anticipo durante il viaggio in treno mentre tornavo a casa riuscivo a malapena a mettere insieme dei pensieri coerenti mi chiedo se sarò se riuscirò mai a vederla ah proprio così boom va bene pensavo che sarebbe durato ancora un po' invece invece no finisce proprio così questo è il primo finale che tristezza non l'abbiamo incontrata chissà se negli altri finali si può si può arrivare ad incontrare Aya magari quando c'è in modo diverso le investigazioni anche se mi è sembrato molto guidato come cosa vabbè ce ne faremo una ragione grazie a tutti Grazie a tutti Oh c'è ancora un pezzettino Allora cammino nel casino di Tokyo Sono tornato a Tokyo e finalmente sono riuscito ad aprire l'ufficio dei miei sogni Il ricordo dei shiori si è scolorito pian piano nella mia memoria finché un giorno qualcuno ha bussato alla porta del mio ufficio Quando apro la porta c'è mia madre lì davanti Qual è il problema mamma? Ti ho portato questa lettera? Prendo la lettera dalle mani di mia madre Mia madre mi ha portato una lettera che è arrivata a casa dei miei genitori Il mittente è Giro la lettera e dall'altra parte c'è scritto shiori yoshioka come mittente E il pattern della carta da lettere ha un elefante Grazie a tutti 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 Yoshioka Shiori Grazie a tutti 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 Grazie a tutti